Buonasera ragazze, allora, scusate spero che non cada il telefono, stasera faremo quattro chiacchiere, giusto quattro perché sarà un video breve in quanto ho poco da dire. Allora, secondo me, come dice il titolo, pagare per collaborare non è assolutamente giusto. Allora, in questi mesi sono stata contattata da diverse aziende, cinque per l'esattezza, tre erano dei siti che offrono dei servizi e due sono delle aziende vere e proprie che vendono dei prodotti di gioielleria. Allora, io non faccio i nomi di queste aziende perché non voglio farle pubblicità, o le porto come esempio per esprimere un mio pensiero, che voi possiate condividerlo o no. Tutti i commenti che comunque non saranno fatti in modo educato e apposta per punzecchiarmi saranno non rimossi ma risponderò a tono. Questa volta io non è che non rispondo come d'altre volte, risponderò a tono. Comunque, pagare per collaborare secondo me è una cosa un po' schifosa e brutta. Allora, queste aziende mi hanno scritto più o meno le stesse mail, per cui è inutile che vi sto a spiegare una per una che cosa mi hanno scritto. Sostanzialmente dicevano, noi siamo un sito al quale ti puoi iscrivere e iscrivendoti puoi ottenere dei vantaggi, puoi provare dei prodotti. Puoi essere chiamata, cioè se tu ti metti nel database, puoi essere chiamata per approvare i nostri prodotti. Quindi i tre siti più o meno erano così. E le altre due invece erano delle aziende che vendono orologi e gioielli, no? Allora, i primi tre che erano dei siti praticamente dicevano, se vuoi collaborare, anzi saremo lieti di collaborare con te. E vado il link e il sito era a pagamento, ok? Tu per iscriverti dovevi pagare sostanzialmente. Per cui loro cosa mi hanno detto? Vogliamo collaborare con te. Ma non era vero, loro volevano che io mi iscrivessi al sito per poi magari avere la possibilità di provare dei prodotti. Però era a pagamento. Allora, a me non dà fastidio il fatto che le aziende si facciano pubblicità e che le aziende mi mandino email per farsi pubblicità, no? Perché se uno mi dice, guarda Erika, abbiamo questo sito, questo sito è a pagamento, però potrai ricevere dei prodotti in omaggio, ti andrebbe di iscriverti. Ma se ho voglia mi iscrivo, se non ho voglia non mi iscrivo. Ma quando mi iscrivi collaborare, ci piacerebbe collaborare con te e dopo mi mandi un link che comunque io devo iscrivermi a pagare, anche no? È brutto così, secondo me è bruttissimo perché io per carità sarò anche sfigata che ho pochi iscritti, ho poche visualizzazioni, ma non andrò mai, mai e poi mai. Cioè mai assolutamente non mi abbasserò a pagare pur di collaborare con un'azienda, mai! E questo allora non mi venite a dire però, non mi venite a dire ecco, quindi se devi comprare il prodotto ti dà fastidio, ma se te lo regalano allora sei contenta. Certo, perché quelli là sono prodotti e anche le aziende appunto che mi hanno scritto che vendono orologi gioielli che sono prodotti carini, ma io non è che ne ho bisogno per cui immediato oppure ho bisogno per forza di quei prodotti, se mi li regalano io posso provarli e recensirli nel mio canale, farli sapere come sono, ma certo che se me li devo andare a comprare non me li compro perché non ho immediato bisogno di quei prodotti. Quindi non mi venite a rompere le palle con questo discorso che non ha né capo né coda e non mi venite a rompere le palle in generale che io rosico. Io non so rosicando, io trovo solo che sia ingiusto contattare delle persone, dei youtuber o degli utenti instagram per poter collaborare quando poi in realtà non è una collaborazione ma un acquisto a pagamento, ok? È ingiusto, quindi io veramente state attente a tutte quelle aziende che vi propongono queste cose qua perché alla fine vogliono solo che comprate. E poi appunto le due che invece mi hanno scritto che vendono gioielli, mi hanno detto sì vogliamo collaborare con te, allora ti inviamo un codice sconto del 60% o del 70% con il quale potrei comprare un orologio, un gioiello per poi pubblicizzarlo, mettere le foto su instagram e se la gente compra dal tuo link noi comunque ti diamo la percentuale di vendita, ho capito? Ma io intanto l'orologio me lo devo comprare e vaffanculo col cazzo che mi compro il vostro orologio andatevene proprio a fanculo, io non lo comprerò mai il vostro orologio e anzi e se mi viene in mente di comprarlo perché magari lo vedo su un sito e mi piace, non lo compro apposta perché voi andate a mandare questi mail che ho scritto ci piacerebbe collaborare, no! Voi vi state facendo pubblicità, non vi piacerebbe collaborare. Allora se, ma io ripeto, non ho niente contro le aziende che mi vengono a scrivere Ciao, ti interessa uno sconto del 60% per acquistare i nostri orologi? Se ti interessa lo puoi utilizzare dopo se vuoi mettere le foto su instagram e se vendi tramite il link noi ti diamo la percentuale, ok! Ma non mi venire a dire ci piacerebbe collaborare con te perché collaborazione non è a pagamento, ok? Ecco, mi sono sfogata perché dopo alla quinta volta che uno mi scrive così mi sono anche rotta le balle e quindi io per carità continuerò ad essere sfigata, non avere mai collaborazione, non avere mai niente, niente, niente assolutamente niente gratis, roba che gente con mille iscritti ha cose gratis non riesco proprio a capire come mai, va bene, non importa e basta ma io non pagherò mai per collaborare con le aziende io vi saluto e provateci, provate a scrivermi dei commenti qua provate a provocarmi, provateci solo e io vi risponderò a tono, provate!